E poi percezione Perchè vabbè Percepiscali come si Ai possiamo mettere un altro punto E lo mettiamo a Natura Spell focus Non è ancora al momento credo Mettiamogli la conjuration Augmented summoning Questa è carina Combat casting Metamagic Non ci provo neanche Spell penetration Ah vedi puoi specializzare una spell E farla diventare più strong Ah per diventare più potente No Una spell a livello 1 non conviene Penetrazione invece che fa Più due Sui gaster level checks Per cercare La resistenza del target Ci può stare Adesso devo scegliere 8000 magie Ebbene 8000 Ah però vedi ti dice anche Che membri del gruppo Possono accedere alla stessa spell Questo è buono Shield lo prendiamo Snowball non mi aveva fatto impazzire Onestamente eh L'avevo usato sul maghetto di là Non mi aveva Colorspray Spruzzo colorato E' sempre un'ottima spell Chissà perchè l'avranno chiamato Colorspray Chiaramente perchè la spell Fa quell'effetto lì Però chissà perchè Gli era uno Gli è venuto in mente Ma perchè non facciamo Che il mago Spruzza dalle mani i colori E la gente Poi viene stunnata Perchè non ci capisce più Il cazzo Per i colori Che gli hanno spruzzato in faccia E tutti Madonna si Saranno stati in ufficio Fattissimi tutti quanti Mamma mia zi Cioè ti sei inventato la spell Più bella di tutte E l'hanno aggiunta Shocking grass Stone fist E' buona E' piaciuta Il pettino mettiamo Intanto ne posso scegliere 8000 Mettiamoci pure snowball Per quanto non mi piaccia Sleep E reduce burst E via Let's shake a leg Eh Let us press on Questa Eh Forwards A solid plan I lead I didn't even break a sweat You're done for I have no need Questa è perfetta Questa è perfetta È perfettissima È perfettissima È perfettissima E come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Paris 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 E' buono Buono caotico però Perché gli piace anche Un po' il gossip E quindi si mette lì A fare gossip Paris Pimpecci Fidget Allora Vai Attira le cose acide Un po' acide Bellissimo Allora Il tratto è acido Giusto 7 HP Infermati tutti Sono squiscissimi Possiamo ritornare Con un party da 6 Adesso Che chiaramente Fa la diff Un party da 6 Tra l'altro C'ha proprio 600 pet Non tutto Probabilmente L'unica cosa è che C'ho solo il pala Per curare Basterà Ma si Ma si Ma si Basta Basta Quale brutte posso mettere A qualcuno Se proprio sto in difficoltà L'hanno livellato Ma fatemi giocare gioco No? Tacci i vostri Ah Lei deve mettere fighter Ah Tra l'altro devo vedere bene Che ci voleva bene Aldori Swordlord Perception Mobility Persuasion Perception Perception Mobility Persuasion Ah Poi devo vedere pure le altre Ma le vedrò dopo Ve l'ho messo Ah Piranha Strike Aldori Dwelling Mastery Chex As long as you come Build one single dueling Ok Questa assolutamente Perchè tanto lo scudo Non lo userò Lui va avanti col palaminchio E prende Religione Arcana Persuasione Poi Persuasione Non sa se servirà mai Dentro sto coso Ranger Ovviamente Ranger Final 6 Natura Percezione Triggery Stealth E Weapon and Shield Menacing Archery Ovviamente Ok Questa migliora Point blank shot Point blank Oddio Point blank C'è Si C'è il suo qua dentro Point blank Perchè comunque stiamo sempre al chiuso E spesso sparano da vicino Effettivamente Ehm Druido Andiamo full druido E' solo un livelletto Niente di che Qua Boom 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 Si Non ha spell in più lei Lo slayer Lo continuiamo a fare slayer Vediamo Mobility Triggery Perception Ehm Uh Uh Kani Observer Combat style Feat Iron Guts Pathfinding Ah Uh Maestria del terreno però Underground Vai E basta Perchè quell'altro ovviamente non ha livellato Andiamo avanti Let's go Già cominciano i budelloni che li mostruono Ci sono E' No 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 Non mi faccio una sega Colpa di Paris Non capisco Allora la potion L'amuleto dei pugni veloci Ma perché deve troppa tutta sta me Maledizione Ogni santa volta Lui c'ha la medium Lei Ah il druido non può indossare Roba più pesante di top Ok interessante Va bene Non sapevo tutto ciò C'è un troll di natura Eh this task is beyond me Li mortaci tua Ah che abbiamo droppato Cotta di maglia Potenziata Poi devo mettere i VG in maniera differente Armi No Un anello ring of protection Lo diamo ovviamente ad ala E Ottimo Qui ci sono ben due porte Dai andate avanti Deve aspettare il dogo Il dogo neanche proprio ha detto Io manco ce l'ho provo Dato un buff Uh nel metto Buono Comunque il loot è piuttosto randomizzato Carino Saving throws contro le spell sony Mamma mia Ghiacciante Se lo merita tutto E' un altro amuleto dei pugni agili Ma che sega Allucinante Scand with me Ah qui si Andare di C'è una cazza Una cacca Una cacca Vamos Pacca Allora Vamos pacca Questi vanno bene Però mi serve Una roba di Questo tipo Facciamo Quattro davanti Poi quando ci saranno altri pet Sarà divertente Che non ci sarà neanche lo spazio Per metterli tutti quanti Per bene Senti Andami dietro però Perché a loro le draffole Pareva che il camionetto ci passava sopra Ma non è vero Ha pure preso un colpo Paris Quasi esplosa Ci provate Bene bene Tutta sta manfrina Pena cassettina Eh si Vabbè Andiamoci N'affanculo Andiamoci Di quanto Ci abbiamo ancora Un 23 minuti Bless E 28 Di Unyouting Spirit Niente di incredibile Niente di incredibile Però insomma E' pure un livelletto E' vero che all'inizio i livelli partivano a rullo Ah però Ah perché ha livellato Paris Giustamente Appunto su Wizard Wizard Arcana Word Natura Perception Via Enlarge Person E Protection From alignment Però quella è singola Mi sa È singola Protection Che c'è all'inizio Ring of protection Più uno Lo diamo A lui Poi vediamo Se ci sono altre porte Non mi pare C'è questo Cassettina Di carità Che ha Dov'è sta la moneta Che c'è qua Silver disc Un disco D'argento Niente di particolare Qualcuno che è arrivato Secondo A qualche roba A qualche roba Di musica Faccio i vostri Ma che l'ho levata La cosa Non c'è Non c'è La missione Non la facevano esplodere Facendo Passare Sopra A tutti i costi Loro Mortaci Loro All'esteroge Ci avevo fatto caso Al primo playthrough Eh mannaccia Mannnaccia Bisogna rifare Tutto sto posto Sembra che si siano pure Ispirati Molto Vabbè Out Nua quello Quello Che ho detto Ma anche un pochino Il buon vecchio Darkest Dungeon Che ho ripreso A giocare Montani Veramente Veramente Un giocone Darkest Dungeon Cos'è sta roba qua Un elmo Da Tight helmet Più due bonus Contro Sonic Spell È sempre la solita roba Mamma mia ragazzi Ma non c'è un'opzione Per non far vedere gli elmetti Sono una roba terrificante Tutto per avere Un fantastico Più due Contro le Le spell Sonic Che non mi direrà mai Nessuno In tutto il gioco Meravè Come dire Poi che Quanti danni fa Tra l'altro Sono un danno Con la balestrina Che sono comunque meglio Dei tre Che farebbe Con la spell magica In teoria Siamo messi meglio Così Wand of Create pit Quella è buona Ma tra l'altro Stavo pensando Io l'altra volta Il Una spada Doppia lama Il Cosa Come cazzo Si chiama Il paladino Tanto gliela metto Questa Se serve Bene Il paladino L'avevo fatto Non paladino paladino L'avevo fatto Un paladino Particolare Mi sa Mi sa di sì Mi sa di sì Che era quello Che inciantava La spada Eccetera Cioè Vabbè Perché sega Guarda che cazzo Che sa Fanno Buono Ci sono accattati Un buffer O forse Lo prende Non mi ricordo Mi sa che Proprio L'ho Schippato Senza neanche Pensarci Che ho preso Ho cliccato paladino Boom Per far veloce Proprio C'è una sorpresa Anderciulo Allora Una curatina Pure due A lei Non Proprio Pure da solo Stighe Sdai E Vai liscio Salviamo la partita Ma mi sa E non si guardano per niente Non so se è L'esplazione Che è particolare Dall'ira divina Mostruosa Allora Questi Non servono a niente Questi danno Più Uno Competence Bonus Sono Attack Rolls Per L'arco L'arco Ce l'ha Lei Rivelliamo Infatti è paladino Paladino Laura del coraggio Allora Bim Boom Bam Bup Dazzling display Combat casting Paladino c'ha bisogno di combat casting Mi sa di no No Che medium Heavy armor Via Mercy Su second E Complete Poi Lei Deve andare ancora su fighter Boom Ah bisogna vedere che gli manca Ancora perception Mobility E knowledge A tre Per Per E mobility Vabbè Tanto poi li dobbiamo alzare piano piano Point plank Piragno Strike Che ci piace Tra l'altro Piragno Strike Ok Già ce l'ha attivo Lei deve ricontinuare Con i suoi punti In ranger Ovviamente Lore Natura Perception Trickery Stealth Athletics Colpo preciso Eh si Poi Terrain Ovviamente underground Perché questi combattono Sotto terra La nostra druida La continuiamo a fare Druidina Ci abbiamo Perception Natura World Weapon focus Non lo so Non ancora In realtà la potrei fare Pure coi pugni E basta Non lo so Neanche sull'armatura Maledizione Però combat casting Che lo mettiamo Per sicurezza Complete Poi Slayer Altri punti In slayer Mobility Triggery Lui praticamente C'ha la stessa roba Che c'ha L'elfa In buona sostanza Weapon finesse No Point blank shot Sì Utile E basta E abbiamo livellato Tutti Li facciamo Pure Non li facciamo Ripusiamo Anche da niente Aspettate Mi devo controllare Lo spellbook Infatti Lei Aveva roba Da aggiungere Magic Fang Long strider Long strider Via Lo vediamo Adesso Tanto è vocato Might Probabilmente Non sopravviverà Il caricamento Devo anche andare Fuori da qua E vendere Mi sa perché C'ho troppa roba Adesso All'iello Dato paris Eccolo là Wizard Arcana Boom Natura Perception Use magic device Greater spell focus Su conjuration Va bene Burning arc Mi piace Create pit Pure E poi mettiamo I vari buff Eccetera Eccetera Molte Orbe Cazzi e mazzi Però il create pit C'ha veramente I suoi usi Ecco In quel fight Brutto Di prima L'avrei potuto Usare Il create pit Qui siamo Nel darkest dungeon Palesemente Andiamo a vendere Da gigino Bell Gigino Bell Tanto non avevo Nessun Nessun Blessing Nel niente Let me Check your Wares Che è sta roba No Adamant in chest Meglio Questa si tiene La skill mail Più Uno Pure Fermi Tutti Questa è tutta roba Che proprio Devo smetterla Di premere Contro Certo Queste sono Probe Che valgono Un gold Poi per carità Tutte sommate Un gold De qua Un gold De là La fine Fanno Mille gold Però Due gold Vediamo qua Quest'armatura Di adamantina Media E lui Mette armor Pesa Quindi ciccia Lavoratore Lui Però Ha senso Che gli metto A questo Ha senso Perché non lo posso Mettere a nessun altro Se no E vediamo Che gli possiamo Comprare A sto ragazzo Venti Venti Dio Allora A lei serve Una Dueling sword Plus one Sword Scusate Una great sword Poi Flaming great sword Guarda che bella Questa Sta pure in fiamme Sta pure in fiamme 8000 8000 Però costa Un cellotto 8000 Sono povero Brutacci vostri E great sword Più uno Poi vediamo un po' Heavy crossbow Più uno E già a me bastano Più soldi Prendo questa E ciulo Perché non c'ho più una lira Quindi abbiamo Fixato Loro due Lei Che si accatta Questa E lui Che si accatta Questa Vabbè Intanto Intanto Qualcosina Ha fatto Vediamo Poi piano piano Di potenziarli Ragazzi Una volta Una cosa per volta Ma perché Sono tornato Dal drago Non lo so Arrivederci Arrivederci Drago Devo andare Dentro il darkest dungeon Ok Ok Let's go F5 Come F5 Lo usiamo Il posto Usiamo L'F5 Come zero danno Come zero danno Perché John Blaine Ha preso Una pizza Infinita Madera Strano Strano poi Perché è tipo Uno dei pg Che c'ha Più Il pg Con più hp Di tutti Amico mio Non curi Una sega Dobbiamo Pensare Alla faccenda Perché c'è Poi Di 50 50 Lion hands Per Per curare Un minio Stivali E Denuncià Denuncià Così Stivali Più 2 competence On mobility Checks Mo devo vedere Chi cazza Rova è Che c'avevo mobility Lei c'ha più 2 Questa c'ha meno Mille Meno Mille Meno Mille C'era lui Mobility Vai Full Mobility Stivali Per il mob mobility Che hai E mo Se ne andiamo De qua De qua De qua Non si può entrare Questo skill Non sapete Che faccio Spesso Zero Danni C'è Poi Per carità Di sguardo Spesso Zero Danni Specialmente Con Gli Archi Ma Non so C'è La Sampetta Ma Che Ha Fatto Sling Sling Stuff Mi piaceva essere Una staffa E una fionda Mi piaceva essere una staffa e una fionda Mi piaceva essere una staffa e una fionda Non ci sono costi dove farà più così Quindi c'olo E quando perde c'olo Ma vianderò Io sono finito Siamo di qua Questo qui sembrerebbe un muro finto Strano Da come interagiscono le cose di VG Però va capi Magari hanno messo solo le texte urmale Ma come hai un molto believe this is possible Qua deve esserci una porta O mi son perso una porta da qualche parte Ah no eccola qua Infatti mi sembrava strano No No Sai che c'è Distruggiti Quindi ho ridirezionato le frecce A mezz'alto Ah ma l'entangle No Wow E lo tiri a tutti Ha fatto una cazzata Bellissimo l'entangle però E quindi rallenta il movimento di tutti quanti Che veloce Ok vabbè meglio così che l'ho testato Adesso ce lo godiamo in tutta la sua Gloriosa Gloriosa Lentezza I am finished Uh Uh Mithral Mithral armor Certo potevano almeno cambiare Ma un pelo Solo che ne so Qualquando cambi l'armatura qualcosa Dell'immaginina Che Di quello che c'hai addosso Accanto di niente Questa sarà la stanza finale mi sa Dov'è la trappola? Ah ecco E anche se vede su Mi sa che mi conviene pullarlo Fateli venire Fateli venire Signo Oh Uff C'è stato scoperto Lo tira l'inocchio C'è stato scoperto C'è stato scoperto C'è stato scoperto Dov'è la trappola? Sì C'è stato scoperto C'è stato scoperto Grazie a tutti.